Un 84enne residente a Pesaro in via Lubiana, Nazareno Renzi, versa in gravi condizioni l'ospedale regionale Torrete di Ancona, trasportato d'urgenza dal 118 dopo essere stato investito in via del 900 attorno alle 19.30 di ieri, mentre si trovava sulle strisce pedonali da una Fiat 600 guidata da un residente del posto di 62 anni con a bordo l'anziana madre. L'ottatanque a trenne per l'urto violento è stato sbalzato sul cofano dell'auto e dopo aver battuto violentemente il capo contro il parabrezza, sfondandolo, è caduto di peso sull'asfalto, una ventina di metri dopo il punto d'impatto trascinato dalla 600. Il conducente avrebbe dichiarato di non aver visto il pedone attraversare la strada. L'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 che è stato allertato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e che, valutate le condizioni dell'uomo, lo hanno trasportato in codice rosso a Dancona. Sembrerebbe, stando alle dichiarazioni della figlia dell'investito a corsa sul luogo dell'incidente, che l'anziano, mentre si trovava all'interno dell'ambulanza, fosse cosciente. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche due pattuglie della sezione infortunistica della Municipale di Pesaro per i rilievi di legge.